3, 2, 1, un video che stavate aspettando. Da dato tempo ho preso il tonno naturale da penne, grammare, tonno naturale da 80 grammi. Ho preso le olive nere denocciolate, sempre da penne, orto mio da 350 grammi. Ne ho prese due. Ho preso la farina sempre da penne, farina 00 di grano tenero. Poi ho preso la becemella da Laoshan, primo prezzo senza olio di palma, mezzo, mezzo millimetro. Da mezzo, da 500. Ho preso da penne, il brodo gusto classico 10 cubetti. Ho preso sempre da penne, vivella, tagliatelle da mezzo chilo. La pastina sempre da penne, pior di pasta, risone da 500 grammi. Farina integrale, sempre da penne, da un chilo. All'Erospin ho preso 3 mulini, semona di grano duro, rimacinate un chilo. Ho preso da penne, barilla tonno, per mia sorella Cinzia, da 400 grammi. Ho preso da penne, i fagioli, i cannellini e le lenticchie, tutte e due da 500 grammi. Ho preso i bicchieri, infrangibili 80 pezzi, sempre da penne. Ho preso i ceci da penne, secchi, 50 grammi, provenienza origine argentina. Le lenticchie, invece, provengono. Dove provengono le lenticchie? Non c'è scritto. Boh, non c'è scritto. Vediamo i fagioli, da dove provengono. Origini, Egitto. Poi, per esempio, da penne, il pane grattugiato, da mezzo chilo. Poi ho preso sempre da penne, il mais al naturale, da 285 grammi. Poi ho preso le patatine, sempre da penne, country style, crocs, 125 grammi. Ho preso da penne, il prezzemolo, il basilico, da 15 grammi, caduno. Ho preso sempre da penne, riso scotti integrale, nuova bontà naturale, da un chilo. Ho preso sempre da penne, sacchetti gelo. Ne vanno 75 pezzi, da 25 x 35 centimetri, capacità 3 litri. Poi ho preso da penne, cornoflex. E poi ho preso a lauchan, queste fette biscottate. Novità classiche. 60 x 60, 4 x 15. E noi ci vediamo al prossimo video. Maria, saluta. Gira la faccia. Di ciao. Di ciao. Ciao a tutti. Di ciao. Ciao. Ciao, al prossimo video. Baci baci. Grazie.